Il consigliere comunale di Vittoria, Giuseppe Nicastro, critica i nuovi provvedimenti dell'amministrazione per quanto concerne le regole che riguardano il canone per l'occupazione del suolo pubblico. La delibera di giunta, infatti, spiega Nicastro, stabilisce che il rilascio della concessione di suolo pubblico per le occupazioni permanenti come bar, ristoranti, pizzerie, paninerie e pub è subordinata alla regolarità tributaria relativamente a ICI, IMU, TARSU, TARES, Canone Idrico, cosa per ICP accertabile dall'ufficio tributi fino all'annualità precedente a quella corrente. L'amministrazione comunale, quindi, continua il consigliere, delibera di concedere il suolo pubblico solo se l'imprenditore dimostra la regolarità contributiva del pagamento dei tributi comunali. Una manovra che, secondo Nicastro, rappresenterebbe una vera e propria mazzata che andrebbe a colpire solo determinati tipi di attività che hanno già enormi difficoltà a causa della crisi a regolarizzare la propria situazione contributiva. Il dovere degli amministratori, sostiene il consigliere, sarebbe quello di dare ossigeno alle imprese e non di penalizzarle. L'appello al sindaco e a tutti gli amministratori è quindi di rivedere questa determinazione già deliberata in giunta per dare respiro alle imprese del settore. Grazie. Grazie. Grazie.